sì sì siamo qua e vi do il buongiorno così l'amore è la rossa quella homemade mega pompatelo che cazzo e la rossa quella quella che possono comprare un po tutti più o meno quindi questo v4 quanto quanto è un'apparizione mistica andiamo a entrevistarlo male malissimo vieni raffia ma che è un'apparizione mistica è vero toccalo toccalo porta bene vai così direzione bucello perché alcuni di noi faranno la loro prima experience tipo tipo lui tipo brodisk frizzi andiamo a testare pure frizzi ci sono i novellini percepisco giusto un mimo di cacchina no te metti 800 a me vieni con me vieni con me c'è da fare i fogli c'è da fare i fogli scrimi scrimi cosa smetti di fare storie mattinardi dai basta basta tutti i missili sono qua marcomoto dei new rider è riempito da noi tutti i new rider tutti i new commerce i mobili ma ma fare una domanda a questa persona il nostro top gun ma cos'è un pacchettino amazon senti ma te l'hanno accettata ma hanno detto si si andiamo via te c'hai l'ansietta cacchina ti sta preparando tutto ti stai un po' emozionando bucio dai fammi una cosa da youtuber sforza cazzo alla prossima avventura ci ho provato alla youtube prima volta prima volta c'è l'ansia no ti ha portato il preservativo no non facciamolo si sempre sempre pausa al cagotto per il bro prima esperienza grazie Anna beh sicuramente essere in questo paddock è sempre bello c'è poco da dire spero mi facciano portare il copro dentro ma mi sa che qui a Berlino a tedeschi scoccia un po' stiamo a vedere guarda tanto è faboloso il bro 40 persone e 30 hit in missili va sentite vado avanti glielo fai giucciare? si allora hanno fatto i gruppi no qui ci sono i missili veri invece guarda 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 c'è gli uomini in intorno non le tondi vieni ragazzi pronto a sinistra bro adesso ci puoi piegare senza sono tutte curva a destra lui non piega vamo numero uno io a parte a parte che alla fine piglio quasi l'istruttore poi è top sono da corsa com'è? com'è? bellissimo fottosamente bellissimo bella macchina è bello ciao da restituri al testimone io queste me le tengo queste me le tengo cazzo vieni bisogna bere soltanto una mettiamola a posto mi si ingorpa a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.